Mi avete enormemente fatto piangere Ma attenzione Di tristezza Non di gioia Io non so neanche come dirvelo ragazzi Cioè praticamente Io non sono tizio che porta Robi di negatività Nel suo canale Però questa volta ragazzi è stato È stata una vergogna In descrivere Cioè non so neanche come descriverlo Io praticamente Un giorno fa Mi misi a fare una live Chiamata Seratuna Fortnite Ora Quella live è privata Per la grazia di tutti quanti voi Perché? Perché praticamente in quella live C'erano un botto di insulti Del senso tipo del porco di Del utifo Juve Utifo Napoli Utifo Empoli Poi ragazzi non è questo che mi ha fatto incazzare Ma quello che mi ha fatto incazzare Sono insulti verso di me Verso di me Non me Come personaggio Luke Ma me come persona Perché mi sono stati Rivolti in una vagunata di insulti Verso di me Nel senso tipo del Del tipo Sei un pericolo Cosa che assolutamente non sono Mi è stato rivolto del grasso Mi è stato rivolto del ciccione Del vaffanculo Mi è stato rivolto anche Del pervertito Cosa che assolutamente non sono Ragazzi Io le cose che faccio Nella giornata Sono Andare a scuola Registrare E giocare a Fortnite E Minecraft Basta Cioè ragazzi Io non capisco veramente che cosa avete voi Non capisco veramente che cosa avete La mia community Che cosa c***o fa Cioè sono io che sono sbagliato Io cerco solamente di portare un contenuto Divertente Intrattenitivo Ok E non cerco di portare contenuti Di negatività Di bestemmi Di parolacce Ok Certo Qualche parolacce In live ci scappa Però Ah regà Questo è il mondo delle live È il mondo dei video Ok Io veramente sono Sono allibito Cioè raga Insulti A mia madre A mia madre A mia madre Che c***o ha fatto di male A mia madre adesso Perché insultare mia madre Ma voi siete completamente scemoniti Raga Cioè ma che c***o è Voi mi mettete a insultare E col telefono Col telefono E con la tastierina Mi mettete A insultare Una persona Che si spacca il culo In due Adesso l'ho detto veramente Si spacca Io mi spezzo il culo In due Per fare Anche solo 8 minuti di video A settimana E voi insultate 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 E non parlo Della maggior parte di voi Che sono teste Sane Che sono menti sane Cervelli sani No no Io parlo Io parlo De quel 50% Delle persone Che non hanno veramente Idea Di quello che Uno youtuber fa E di quello che Comunque ragazzo come me Che va a scuola Io ragazzi Devo tenere conto Della scuola E devo tenere conto Che di youtube Cosa che mi piace Tantissimo fare Però ragazzi Non è possibile Continuare così C'hai capito Nelle live Ci si diverte Non ci si insulta Cazzo Lo capite Cioè Io non trovo Il motivo Per cui Voi dovete insultare Una famiglia Di una persona Oppure la persona Stessa Perché Non ho capito Che cosa cazzo Vi manca Della vostra vita Vi è morta La nonna Va bene Vi è morta La zia Va bene Però ragazzi Insultare A che cazzo Serve Porco Demonio Che cazzo Serve Ora Per tutti quanti Quelli che Per tutti quanti Quelli che di me Non interessa niente Per favore Vi prego Di disiscrivervi Da questo canale Per favore Fatelo Perché io Non ne posso più Ok Sono andato in depressione Per questo Anche per questo Non ne posso più Ora è anche il mio momento Di parlare Ok Mo basta Avete rotto il cazzo